Lo scorso maggio il primo congresso con l'elezione di Luciano Crolla a segretario cittadino e la nascita del gruppo consigliare alla regione Campania con Giuseppe Sommese. Ieri, con la venuta a Napoli del leader nazionale Carlo Calenda, ufficialmente per la presentazione del suo libro Libertà che non libera, si può dire conclusa la fase embrionale di azione nel capologo campano e in regione. A giudicare anche dai presenti, forse interessato al progetto politico dell'ex ministro dello sviluppo economico Antonio Bassolino su tutti, azioni ha gettato così in città le basi in vista della prossima competizione elettorale, le politiche del 2023. Calenda ha subito chiarito la sua posizione rispetto all'attuale maggioranza di governo. Esattamente a giorni alterni, Conte e Salvini danno un ultimatum a Draghi, sono in realtà penultimatum perché cadono sempre e tuttavia creano una grande confusione in un momento che più drammatico di questo non potrebbe essere. Forse è il momento di veramente smetterla e dedicarsi a fare le persone set. A margine della presentazione, parlando con i giornalisti, poi non si è espresso sull'attuale amministrazione cittadina, ma ha avuto parole dure nei confronti della gestione dei fondi del PNRR da parte degli enti locali. Vedo che nel mezzogiorno non ci saranno risultati perché i comuni non hanno le competenze tecniche per fare i bandi, né per fare i RUP né per fare tutto il processo. Adesso noi abbiamo fatto una proposta che è molto dettagliata, sia nelle possibilità di prendere società esterne, sia nella possibilità di pagarle con 2 miliardi di euro che vanno stanziati. Se lo faranno, allora si spenderanno questi soldi, altrimenti saranno l'ennesima occasione persa per il mezzogiorno. Napoli, io che non Manfredi, sia una persona per bene di cui io stima, credo che la situazione sia piuttosto pericolante ancora, forse non così pericolante come Roma, che è una situazione veramente infernale. E tuttavia, insomma, ripeto, troppo presto. Diamogli tempo.